Oggi vorrei parlare del metodo di trading che mi contraddistingue da tantissimi anni moltissimi di voi seguono questo canale da quando praticamente è partito quindi ormai 13 anni fa e come avrete visto e come spesso mi chiedete il mio tipo di trading è un tipo di trading multi day il trading multi day è differente dal trading intra day proprio perché il trading multi day si mantiene più giorni mentre il trading intra day si fa all'interno dell'arco della stessa giornata io personalmente come trading multi day faccio un trading multi day che si chiama swing trading ovvero va a cercare di cogliere gli swing di mercato lavorando principalmente in trend o nelle maggiori situazioni di inversione o di trading range dove appunto si va a acquistare o vendere un asset e si mantiene per più giorni ci sono svariate caratteristiche che mi hanno portato a fare trading multi day caratteristiche poi che mi hanno fatto anche mantenere questo tipo di approccio al trading la prima cosa importante è che posso fare swing trading multi day posso fare trading multi day pur mantenendo altre attività quindi se io sono una persona che si sta avvicinando al mondo del trading o esclusivamente gli piace il mondo dei mercati gli piace investire sui mercati nell'ottica di breve termine e ho però ovviamente un'altra attività o altre attività principali posso essere un dipendente posso essere un imprenditore ma comunque posso dedicare comunque il tempo ai mercati perché il tempo da dedicare ai mercati quando si fa trading multi day non è tanto quanto chi fa trading in intra day e quindi rimane davanti al monitor o comunque deve rimanere per forza incollato alle proprie posizioni durante la giornata infatti io personalmente come tempi posso dire che quando si dedica circa un'ora un'ora e mezza, due ore al giorno e un'altra due ore, due ore e mezza a fine settimana si può tranquillamente fare questo tipo di trading queste diciamo tempistiche, quest'ora, un'ora e mezza, due al giorno e due orette alla settimana servono per fare le proprie analisi perché ovviamente facendo trading multi day si va ovviamente a fare trading su più asset rispetto magari a un trader intra day che utilizza uno o due mercati e questi asset devono essere ben studiati, ben analizzati quindi si deve andare in profondità per cercare di capire la struttura di mercato di medio termine e quindi operare poi in ottica multi day altra cosa è che utilizzando principalmente uno o due time frame che sono il grafico giornaliero e il grafico settimanale si ha molta accuratezza dell'informazione grafica che il mercato ci dà e quindi non c'è bisogno di avere troppe altre informazioni io personalmente utilizzo un grafico naked come dico sempre utilizzando la price action naked quindi l'azione dei prezzi nuda e cruda senza bisogno di ulteriori filtri, supporti a quello che mi dice il prezzo neppure diciamo addirittura andare a cercare di interpretare quelle che sono le dinamiche macroeconomiche ma si cerca di essere scevri da tutto ma guardare esclusivamente il grafico perché il grafico attraverso questi grandi time frame spesso ci dà delle informazioni molto molto importanti nel nostro trading multi day è che si può pianificare voi potete ben capire che un trading intra day e spesso magari anche abbastanza veloce quasi scalping è più difficile da pianificare e spesso ci porta anche a commettere errori proprio dovuti alla non pianificazione invece il trading multi day ci permette di pianificare di capire cosa vogliamo fare di essere molto come dire focalizzati su quella che è la nostra figura la nostra struttura il nostro mercato e quindi lì pianificare le mosse che si vogliono fare magari nel fine settimana per poi durante i giorni della settimana cercare degli spunti che rispettano la pianificazione e quindi diciamo entrare al mercato con la massima tranquillità e sicurezza d'azione che non significa non chiudere le operazioni in perdita ma significa operare con tranquillità e serenità a questo diciamo che va ad aggiungersi e va un po' di pari passo una gestione del rischio che è spesso veramente quasi maniacale perfetta io personalmente vado veramente a rischiare perfettamente quasi gli importi che definisco come rischio e quindi gli investimenti che vado a fare perché rispetto per esempio a una tipologia di trading molto più veloce proprio per il fatto che ci si pianifica si riesce anche ad avere il tempo qualche minuto a volte addirittura qualche ora per poter tranquillamente andare a capire quanto si deve rischiare dove andare a impostare il nostro massimo rischio e quindi avere anche lì vedete una tranquillità di azione dovuta anche a una gestione del rischio impeccabile molto serena che poi porta quella sicurezza di fondo nell'operatività che spesso porta alla efficacia e all'essere profittevole e un'altra cosa che è molto interessante molto importante io spesso dico di fare è il diario di trading voi potete ben capire che se io faccio svariate operazioni durante il giorno poi devo scrivermi ciò che ho fatto diventa veramente anche difficile diventa molto macchinoso se io però faccio quelle 5, 6, 7, 8, 10 operazioni al mese io riesco tranquillamente a fare un diario di trading scrivere ciò che faccio quindi dove sono entrato che direzione ho preso i motivi per cui sono entrato i motivi perché sono uscito quanto rischio ho preso se ho pagato dell'overnight se l'overnight mi ha pagato insomma tutta una serie di caratteristiche che vengono inserite appunto nel diario di trading e questo facendo un trading multi day riesco non solo a compilarlo in maniera effettiva in maniera efficace ma poi anche a poterlo rivedere e capire che cosa ho fatto per magari migliorarmi nel futuro una cosa che spesso poi non viene tanto descritta e detta io l'ho mostrata in svariati webinar anche che ho fatto anche qualche pillola probabilmente qui è il fattore commissionale voi potete ben capire che se io faccio due operazioni al giorno per 5 giorni di mercato aperto diventano 10 alla settimana che diventano 40 a fine mese e che diventano quasi 500 a fine anno e queste hanno un impatto economico se invece io vado a fare quelle facciamo anche 10 operazioni al mese e le moltiplico per i 12 mesi saranno 120 operazioni all'anno per quale motivo? Perché? perché lavorando nel multi day non si utilizza quasi la leva o si utilizza molto poco mentre nell'intra day sì e cosa significa Arduino voi mi direte? che utilizzando dei lotti maggiori le commissioni che si vanno a pagare spesso sono più ampie non su tutti i mercati ma su molti mercati è così e quindi questa cosa va addirittura ad avere dei costi commissionali nel multi day molto minori non solo perché si effettuano meno operazioni ma perché si utilizzano dei lottaggi che sono più in linea con il nostro conto di trading e poi per finire quello che mi viene in mente in modo eclatante e che probabilmente doveva essere messo all'inizio è la gestione emotiva diciamo che già con tutte le caratteristiche che ho elencato possiamo ben capire che il tipo di modalità con cui ci si va a approcciare al mercato in un trading multi day è molto più di serenità di tranquillità perché? perché c'è più focalizzazione c'è più pianificazione c'è più gestione del rischio c'è più analisi c'è più come dire quel mood di capire il motivo per cui siamo dentro perché l'abbiamo magari riguardato nei giorni scorsi nelle scorse settimane perché magari a fine settimana abbiamo fatto un piano e lo stiamo rispettando e quindi si va in gestione emotiva molto più rilassata molto più tranquilla mentre nel momento in cui siamo a mercato e poi magari ci va male un'operazione ce ne va male un'altra iniziamo si può iniziare ad avere una sorta di gestione emotiva sbagliata vendetta, ripicca aumento di size aumento di leva e quindi si possono avere dei comportamenti che poi invece di migliorare e quindi avvantaggiare il trader lo svantaggiano e poi questi comportamenti portano ad avere una perdita o comunque delle perdite e una poca efficacia nell'ottica anche della costanza e del futuro del trader spesso mi è capitato di parlare con persone che vogliono dedicarsi al multiday ho parlato proprio oggi con una di queste al telefono vogliono dedicarsi al multiday dopo tanti anni di intraday non tanto perché non sono profittevoli qualche profitto l'hanno anche fatto ma sono ormai stressate e non riescono più a gestire bene tutto quel carico emotivo che un trading intraday può dare e quindi cercano di passare switchare un'operatività più rilassata più pianificata più tranquilla che permette loro di fare anche altro ma di fare un trading poi in realtà anche più profittevole queste sono le caratteristiche che io definisco come le migliori caratteristiche del trading multiday se ci sono altre caratteristiche che magari tu che stai guardando questo video hai notato e vuoi scriverle qui nei commenti assolutamente sei libero di farlo magari può esserci anche uno scambio non voglio far passare questo video come il trading intraday è assolutamente non efficace non profittevole ci sono molti trader che lo fanno e sono bravi però diciamo che il trading multiday è sicuramente più replicabile ed ha se vogliamo quella quella caratteristica che tutti i trader quando iniziamo a fare trading vorremmo avere ovvero che il trading ci deve migliorare la qualità della vita e non peggiorarla ecco il trading multiday probabilmente ha anche questa caratteristica io direi che per oggi è tutto prima di salutarvi vi chiedo di iscrivervi a questo canale perché molti di voi non sono iscritti quindi iscrivetevi lasciate un bel like e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti da Arduino Schenato e Airforex ciao